A Parigi sono nati illustri membri della categoria artistica, illustri attori, illustri pensatori, illustri... cioè tanti illustri. Ma noi non parleremo di nessuno di loro, perché oggi parliamo di Natalina Ghettà. Natalina Ghettà è la sorellastra di Davi Ghettà. E già questo sarebbe quanto dire, forse sarebbe probabilmente tutto quello che c'è da dire. Basterebbe poi aggiungere che ha fatto a partire dal 2000, siamo arrivati al 2021 e lo sta ancora facendo la perpetua di Don Matteo. Mi sento di dover chiudere già questo podcast. E invece no, noi parliamo in maniera concreta di Natalina Ghettà, perché Natalina Ghettà ha avuto una carriera e ha fatto delle cose molto importanti e chi dice il contrario è un malfattore. Allora, Natalina Ghettà nasce a Parigi il 9 settembre 1958 ed è detta in Italia Natalina. Natalina molto probabilmente perché aveva un nonno paterno che era napoletano e infatti quando parla c'è una sorta di influenza a metà tra il francese e l'accento napoletano. Fa molto ridere questa cosa nelle sue corde, è simpatica. Abbiamo detto che David Ghettà è il suo fratello, poi a 22 anni si trasferisce a Napoli ecco perché ci sarà anche questa influenza quindi è cresciuta in Italia anche artisticamente. Dove metterà in scena? Spettacoli di clownery perché comincerà a frequentare proprio a Napoli una scuola circense per fare il clown e portereà in scena anche delle opere con i burattini. Solitamente lo faceva in spazi off o comunque in spazi dediti proprio agli artisti di strada. Questo insomma, comunque una vita dedita a questo lavoro in tutto e per tutto, questo dobbiamo riconoscerlo. Poi lei è veramente molto simpatica. Viene conosciuta in Italia l'8 settembre, guardate che precisione, l'8 settembre 1989 quando va per la prima volta a ospite al Maurizio Costanzo Show. Ora, va a ospite al Maurizio Costanzo Show, a parte che quanto pare dall'intervista che ho appena visto conoscesse Federico Fellini, non ho capito se ha addirittura avuto un flirt con il regista romano e poi praticamente in quella puntata si rompe un faro, non lo so. Tanto è vero che Maurizio Costanzo vi dirà ma succede sempre quando vai ospite nei programmi che succede tutto questo casino perché la gente comunque rideva. Lei è un po' stramba, un po' con la testa tra le nuvole, sempre confusa, che capisce poco. Cioè, capiva poco magari l'italiano nel 1989 ma se la vedete nel 2020 è praticamente identica nel suo atteggiamento. Niente, succede un disastro, cominciano a cadere, a rompersi i fari, a confondersi anche lo stesso condottore o lo stesso Maurizio Costanzo si comincia a confondere, il pubblico in sala muore dalle risate e lei trascina il pubblico così, semplicemente essendo assente, completamente alienata dalla situazione in un contesto di finta stupidità perché secondo me, ed è chiaro, che lei interpreta un personaggio ormai per quanto riguarda televisione. Niente, al Maurizio Costanzo Show poi farà diversi apparizioni dove farà l'acrobata, farà esercizi circensi per il pubblico per dimostrare quello che sapesse fare. E poi viene notata incredibilmente da una regista che è la regista Comencini, che sicuramente qualcuno di voi conosce anche per opere letterarie. La note la porta sul set con i Divertimenti della vita privata nel 1992 ed è lì che Natalina Ghettà inizia la sua carriera attoriale. Una carriera attoriale che solitamente dedica alla tv. Ora, Don Matteo è praticamente stato un posto fisso dal 2000 al 2020, 2021 anche. Ma ha fatto delle cose al cinema, tant'è vero che è stata sotto la regia di Christian De Sica, Enrique Barabba, sempre nel 1992. Ha lavorato con registi conosciuti e di successo italiani come Paolo Ginovese e Luca Miniero con Nessun Messaggio in Segreteria nel 2005. Ma ha lavorato anche con un regista che, diciamo, è pretenzioso sotto l'aspetto artistico ed è Pupiavati con La Cena per farli conoscerne nel 2007. Ora, io di questi film ho visto solamente Enrique Barabba di Christian De Sica e chi conosce i prodotti fatti da Christian De Sica, nonostante io abbia una stima immensa nei suoi confronti, sa benissimo di cosa stiamo parlando. Però lavorare con Genovese, Miniero, Pupiavati, minchia, è un bel curriculum. Quello che penso, a parte che poi ha fatto delle apparizioni televisive, qualche serie tv, chiamiamole serie tv soppopere più che altro, ha fatto altre apparizioni in programmi come Ballando con le stelle, Statera Tutto è Possibile, dove è davvero molto simpatica ed è un programma che fa morire dalle risate, e è stata co-conduttrice in Una Voce per Padre Pio nel 2020. E poi nient'altro, cosa posso pensare di Natalina Ghetta? È un po' uno stereotipo della comicità italiana, non ricercato, è poco nuovo, non è una novità dal punto di vista artistico, è una persona davvero molto piacevole, sia fuori dall'aspetto recitativo che dentro, perché questa sua stramberia, questo modo di porsi molto allenato, come dicevamo, sicuramente attrae la maggior parte del pubblico italiano, un po' over 60. Diciamo che Natalina è la perfetta dimostrazione di quello che la serie tv Boris ci mostra ogni giorno per ciò che abbiamo all'interno della televisione italiana. Guardatevi Boris che sicuramente ve la passate meglio. E poi niente, non c'ho veramente nient'altro da aggiungere su Natalina Ghetta, però guardate, mi sto trovando veramente in difficoltà. Però sapete una cosa, che Don Matteo è un bel prodotto e Natalina Ghetta è la perpetua che tutti, ripeto tutti, i preti vorrebbero. E ho finito perché veramente non so che cazzo dire ancora, ho anche esagerato. O comunque quello sulla carriera è tutto vero, poi per il resto non la mente. Ciao Natalina, ti voglio bene.